I dati che noi abbiamo e che hanno le nostre associazioni a cui aderiamo parlano di un trasporto merci che vale circa il 10-11% del totale. Quindi vuol dire che oggi tra il 10 e l'11% del totale delle merci trasportate nel nostro Paese viaggiano via rotaia. È un dato che è sostanzialmente fermo da qualche anno, perché l'offerta di trasporto ferroviario relativamente alle merci è evoluta in termini di quote di mercato, ma non di capacità di trasporto. La multimodalità qui è strategica. Noi pensiamo che sia essenziale creare le condizioni perché il treno venga utilizzato per coprire soprattutto medie e lunghe distanze. Il viaggio va spezzato. Spezzato intendo dire bisogna creare dei terminali multimodali. Ed è lì che si realizza appieno la strategia intermodale, ossia si prende per esempio il container dal camion, lo si incarica sul treno, si forma un treno e poi da lì si parte e si va verso il centro d'Europa a destinazioni finali. Anche qui, come per il turismo, i porti sono essenziali per noi. Noi dobbiamo puntare come Paese e ferrovie, avendo il 50% della quote di mercato nel protagonista, a raddoppiare il trasporto delle merci su rotaia. Per fare questo dobbiamo collaborare con gli autotrasportatori in modo tale che loro possano aumentare la frequenza del primo e ultimo miglio, cosiddetto, cioè delle distanze 200-300 km. Bisogna investire in terminali multimodali, bisogna investire in nuove offerte anche di trasporto ferroviario avanzato e cosa che stiamo facendo attraverso il nostro polo della logistica. Ovviamente tutto questo deve essere accompagnato, cosa che è in atto, da una strategia di sviluppo delle infrastrutture di trasporto ferroviario. E a che punto si potrebbe arrivare? A che quota di mercato? A un 20%, io penso che ragionevolmente possiamo raggiungere un 20% da qua i prossimi dieci anni. Guardiamo alcuni dati che aiutano anche a capire da dove partiamo. Noi oggi abbiamo un'infrastruttura, diciamo così, che ha avuto come ultimo adeguamento il lancio dell'alta velocità 15-20 anni fa. Se io vado a vedere i volumi di trasporto, il numero di treni di alta velocità che per esempio collegavano Milano con Roma, quando partì l'alta velocità a pieno regime nel 2008-2009 e nel confronto con quello che sta accadendo oggi, oggi abbiamo più di due volte quello che si trasportava all'epoca. Il nodo di Roma, cioè la stazione Termi di Roma, oggi vede ogni giorno circa 1.300. Siamo in linea, ovviamente parliamo di opere complesse, quindi l'imprevisto è dietro l'angolo e non bisogna mai dimenticarselo. Noi abbiamo, siamo in linea, il 31 dicembre siamo in linea e dal punto di vista di quanto andava speso, dal punto di vista dell'avanzamento dei lavori e del lancio di gare necessarie per poi aggiudicarle e realizzare le opere. La deadline per noi fondamentale è giugno 26, che prevede la realizzazione di opere che sono poi il risultato anche del rinegoziato che il governo ha fatto sulla rimodulazione di alcuni interventi d'accordo con l'Unione Europea. Bisogna correre e i tempi e i costi vanno a rispettare. Oggi già c'è una separazione netta, anche dal punto di vista societario e dal punto di vista regolatorio, tra quello che è il lavoro, la missione di rete ferrovia italiana e per esempio Trenitalia, nel caso specifico la parte di Trenitalia che compete con Italo. Ho letto i commenti che sono stati fatti, ma ritengo che dal punto di vista del funzionamento e della indipendenza, mi pare che oggi, mi pare che poi anche lo stesso, chi ha fatto questa dichiarazione, l'abbia riconosciuto, non ci siano conflitti o si sta operando in modo corretto. Il fatto di avere un'azienda quotato o meno è un altro tipo di scelta, direi, è rilevante a questo fine. Noi abbiamo già in Italia, anche nel mondo elettrico, esempi in cui pensiamo all'Enel, che è l'Enel di distribuzione, che è una società che ha il ruolo di indipendenza, di connettere, di allacciare, rispettando le regole fissate da un'autorità indipendente. Anche noi siamo soggetti, RFI è soggetta a rispetto di certe regole.